Onestà, trasparenza, sicurezza, legalità, servizi, servizi comunali, quindi ripeto, per non scendere a compromessi abbiamo fatto una scelta di coerenza, di trasparenza, di legalità e dal Ministro dell'Interno sono contento di quello che stiamo facendo, non solo in campagna, ma in tutta Italia, visto che i reati stanno calando e forse noi li stanno lavorando giorno e notte per andare a reclamare. Il Ministro dell'Interno è un sottosegretario all'interno del Movimento Centro e Stena, lei lo vede, si collabora? Abbiamo una bella squadra, il Ministro dell'Interno, altrimenti non si spiegherebbe i successi che stiamo ottenendo contro Marta e Camorra, i reati sono calati del 15%, gli sparti sono scesi del 90%, è una bella squadra e conto che Avellino il 26 maggio scelga la concretezza, l'orgoglio, l'onestà e il cambiamento. Grazie a tutti!